Gravissimo incidente stradale all'alba a Castel San Giorgio, nel Salernitano, nello schianto che ha visto coinvolte due auto. Ha perso la vita una ragazza di vent'anni del posto, della frazione di Castelluccio, Serena Salvati. È successo intorno alle tre, nei pressi dell'incrocio Torello, al confine Conziano. Ancora non è chiara la dinamica di quanto accaduto. Nel violento impatto la giovane ha riportato ferite che sono risultate letali. Inutile ogni tentativo di salvarle la vita da parte dei sanitari intervenuti. Da una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, pare che a bordo della vettura, sulla quale viaggiava Serena Salvati, ci fosse un altro ragazzo, ora ricoverato in prognosi riservata in ospedale. Sul caso indagano i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per risalire all'isatta dinamica di quanto successo. Sconvolta la comunità di Castel San Giorgio, cordoglio da parte dell'amministrazione e del sindaco Paola Lanzara, nel giorno dei funerali della ventenne sarà proclamato il lutto cittadino. Un destino beffardo ha strappato la vita alla giovane Serena, che già lo scorso anno era rimasta coinvolta in un incidente stradale.